Gesù, percorreva tutte le città, Gesù, di villaggio a un villaggio, annunciava il regno, quando ride le folle che lo seguivano, sì come se, perché erano stanche, perché erano abattute, come pecore senza pastore. Allora Gesù disse ai Suoi discepoli, la messa è grande, è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Regate dunque, il padrone della messe, inviare operai nella sua messe, ed ecco, che io vi mando, come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque, astuti come serpi, esemplici, come colombe, come colombe. Non portate, né borsa, né denaro, né bisaggia, né calzani, ed annuncia a te, il regno è vicino, Gesù è risorto, viene con noi, viene con noi. E chi ama il padre o la madre più di me, non è legno di me, non è legno di me. E chi ama il figlio o la figlia più di me, non è legno di me, non è legno di me. E chi cerca nel mondo la sua vita, E chi non prende la sua croce e mi segue, non è legno di me, non è legno di me. E chi cerca nel mondo la sua vita, la perderà, la perderà, e chi perde la sua vita per amore mio la ritroverà, la ritroverà, chi ascolta voi, ascolta me, chi riceve voi, riceve me, chi riceve me, riceve Dio. riceve Dio.